Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla recensione di oggi dove come potete ben vedere non mi trovo più davanti al mio Mac ma siamo all'esterno perché oggi andremo a provare un'applicazione veramente molto singolare chiamata Sally Park. Sally Park infatti vi permetterà di memorizzare la posizione in cui avete parcheggiato la vostra auto e poi vi consente di ritrovarlo magari in un parcheggio molto più grande rispetto a questo vi consentirà di ritrovarla con facilità. Vediamo quindi come funziona l'applicazione. Abbiamo appena parcheggiato la nostra auto e andiamo quindi a cliccare sul pulsante Park. Il software ci chiede se vogliamo salvare questo punto come parcheggio. Diciamoli di sì. Ora noi allontaniamoci grazie a tutti. possiamo vedere che ora il software ci segnala che siamo a 24 metri dalla nostra automobile e ci permetterà quindi di andare a ritrovarla seguendo anche la bussola dove potete vedere che segue esattamente la posizione dell'auto e ci consentirà di sapere dove muoverci per andare a trovarla. Ora naturalmente noi siamo molto vicini perché ho fatto semplicemente una prova così per mostrarvi il funzionamento ma cliccando su questo pulsante è possibile vedere la mappa. Vedete io sono il pallino blu che pulsa mentre la mia auto è il pallino rosso e mi consente quindi di vedere dove ho parcheggiato la mia vettura. Facendo un doppio clic sulla sezione principale dell'applicazione qua non mi ha segnato le informazioni ma solitamente si possono vedere anche le informazioni di gps per una localizzazione più precisa. nel momento in cui parcheggiamo la nostra auto è possibile anche segnalare diversi altri elementi come ad esempio degli appunti per poter meglio ricordare la posizione della vostra auto oppure addirittura scattare una fotografia. Ora noi ne proviamo a scattare una ad esempio di questa auto qua di fronte a noi ed ecco che la fotografia va memorizzata nella nota del nostro parcheggio ecco qua così da poter avere anche un riscontro visivo nel momento in cui andremo a cercare la nostra auto. Bene ragazzi, questa è la Sally Park, un'applicazione che vi permette di ritrovare la posizione in cui avete parcheggiato la vostra vettura. È molto ben fatta, l'interfaccia grafica è veramente ottima. Queste sono le impostazioni dove è possibile selezionare la potenza di suoni e delle statistiche. Qui si può anche con un tocco eliminare gli appunti ed è veramente molto simpatica. Graficamente è davvero ben fatta con questa sorta di pelle tipica degli accessori per automobili e quindi provatela perché può essere veramente utile in un contesto magari più affollato di questo. Dategli una chance. Tra i difetti direi che spesso la posizione dell'auto non viene salvata con estrema precisione forse anche per via del GPS incluso nel phone 3GS che non è comunque come sappiamo il massimo ed anche la bussola a volte tende un po' a sballare. Però direi che l'applicazione riesce a svolgere il compito che si prefigge. Ecco, grazie per la visione, alla prossima recensione e a presto. Ciao!